Abbiamo anche durante la performance possibilità di gestire lo stress con quattro strategie. Muoviti, respira, preparati e sogna. Sono gli stessi nomi ma sono leggermente diverse applicate durante la performance. Per esempio, ti sei mai sentito pieno come se avessi mangiato pollo con patate, pasta al forno, cannelloni, supplì, pizza bianca? Ti sei mai sentito nella tua performance così pieno e in quel momento vorresti proprio esplodere? Cosa puoi fare? No, non un bel rottino ma un bel respiro profondo, la tecnica respira. Mentre parli fai un bel respiro profondo proprio come ho fatto io in questo momento, poi magari ne fai anche un altro come ho fatto io e questo fatto due, tre, quattro volte molto lentamente ti calma e ti aiuta. Quindi non è più il respiro prima ma è il respiro durante la tua performance. Ti avviso non è facile farlo, gli altri nessuno se ne accorge, anzi più lo fai meglio è non solo perché ti calmi ma anche perché piazzi delle belle pause tra un discorso e l'altro e le pause hanno l'unico scopo di attirare l'attenzione. Due, muoviti all'inizio della tua performance. Devi sapere una cosa molto importante. La maggior parte dello stress si annida nei primi minuti della tua performance. Questo vuol dire che se tu trovi il modo di passare quei minuti è fatta. Allora muoviti che significa? Che se hai possibilità di muoverti fisicamente nel posto in cui tu fai il tuo intervento in pubblico, che ne so se c'è una lavagna, andare a scrivere qualcosa alla lavagna, andare in fondo se è grande l'aula, andare in fondo e parlare con le persone che stanno in fondo e tornare. Se hai possibilità di fare qualcosa di questo tipo, questo ti aiuta a bruciare quelle energie in eccesso che si hanno all'inizio di una performance. Quindi a seconda del contesto del tuo intervento in pubblico, cerca di muoverti per bruciare energia. E ancora sogna, che significa? Significa la stessa tecnica della previsione che tu hai fatto il giorno prima o vari giorni prima, per tutto il tempo che ti pare, più la fai meglio è, la mattina appena sveglio e la sera prima di andare a dormire sono i momenti migliori perché il conscio e l'inconscio sono vicini. Quella stessa tecnica la puoi fare prima di iniziare, anzi ti consiglio di farla prima di iniziare o quando fai un momento di pausa. Io generalmente la posso fare in ascensore o in bagno prima di iniziare la performance e questo ti aiuterà ulteriormente. Infine, preparati. Abbiamo detto che bisogna prepararsi bene, soprattutto le aperture. Adesso è il tempo di prepararsi e fare una cosa molto particolare che io chiamo gettare la scimmia. Che cosa significa gettare la scimmia? Immagina lo stress come una scimmia che è qui e che ti avvolge la gola. In quel momento tu vorresti morire perché lo stress ti sta massacrando. Tu non devi fare altro che prendere la scimmia e gettarla, gettarla via. Questo significa che fra un po' ti ritorna la scimmia. Eccola che è tornata. Questo significa che tu ti sei liberato dello stress gettando l'attenzione altrove. Come lo fai? Con le domande. Quindi il momento di preparati prima, preparati anche delle domande, perché poi nel momento giusto tu fai queste domande aperte. Per esempio, chi di voi vuol dirmi se ha già partecipato a un intervento del genere, che può essere un corso, una conferenza, una riunione. Qualcuno parla e tu stanno passando i primi minuti. Ti rigettano la scimmia e tu la rigetti e dici, chi altro di voi vuole dirmi da dove viene? Ah, da Bari, da Roma, da Milano. Ah, bene, bene, da Bari, da Roma, da Milano. Poi la scimmia torna. Eccola che torna. E tu ne fai due, tre domande finché non ti senti a tuo agio, perché hai non solo gettato la scimmia e fatto passare i primi minuti i più delicati, come vedremo tra un po' nelle aperture, ma anche hai convolto il tuo auditorio, cosa che è una delle regole fondamentali per fare una performance in pubblico efficace.